E adesso un oggetto che porto sempre con me, in un modo o nell'altro, una penna tattica. Innanzitutto volevo condividere un po' con voi qualche pensiero, no? Perché portare una penna tattica? Sappiamo benissimo che se ci dovesse servire uno strumento da difesa, tra i più efficaci c'è lo spray al peperoncino, questi dell'ASP tra l'altro sono anche in dotazione alle forze dell'ordine e quindi funzionano bene se però nel luogo che stiamo andando a frequentare è ammesso il porto di questi spray. Ci sono però alcuni luoghi, alcune situazioni dove magari non portiamo lo spray al peperoncino o semplicemente non lo abbiamo a portata di mano nel momento del bisogno. Una penna di tipo tattico come questa è invece una penna robusta che uno tiene in tasca sempre, tanto una penna la porti sempre con te, no? In un modo o nell'altro una penna ce l'hai sempre. Ecco, uno strumento di scrittura che però ha la declinazione tattica. Tattico in questo caso significa che riesci a fare più cose di quelle che sembrano, più funzioni in un solo oggetto. La sto tirando per le lunghe ma in breve il discorso è una penna tattica è un oggetto che mi permette di difendermi in caso di bisogno. E cosa lo rende tale? La struttura e la geometria. La struttura, beh, deve essere robusta. Una penna tattica deve essere in grado di funzionare bene durante una colluttazione. Per fare questo la penna deve essere robusta. Una penna semplice di quelle che vi passano alle poste per compilare un modulo non funzionerebbe. Si spaccherebbe, ci feriremmo anche le mani. Cosa cerco in una penna tattica? Perché uso queste delle Smith & Wesson da tanto tempo? Perché sono azzeccate. Innanzitutto hanno un look molto sobrio. Non hanno un look estremamente tattico, appariscente. Soprattutto quando sono infilato in tasca, spunda tanto che basta e va bene così. Hanno delle lavorazioni sul bordo che mi permettono di sfilare la penna. E quando chiudo la mano, la chiudo su questa godronatura che la blocca in una presa. Non solo. Nel momento in cui la mano è chiusa, la penna offre una grande sporgenza che ti permette di essere molto più efficace in una situazione difensiva. Quindi, siccome una penna devo portarla sempre, io preferisco spessissimo ormai delle penne tattiche. Su Backpack ne trovate diverse, ne arrivano anche sempre di nuove, ma le funzioni, le caratteristiche sono più o meno sempre quelle. Penne robuste, penne estremamente solide, con un buon grip e una geometria che concentra la forza della situazione tutta in un piccolo punto. Che fa male, malissimo. Tra l'altro Smith & Wesson produce questi accessori, ma è un'azienda che rifornisce di ben altro le forze dell'ordine e le forze armate di tutto il mondo. Quindi realizza questi oggetti per essere da compendio all'equipaggiamento, ad esempio, di un agente di polizia, un agente di sicurezza, che ha una penna, gli serve una penna, ma ha il bisogno, ha anche un oggetto di autodifesa. Per realizzarla è stato usato alluminio aeronautico, il T6061, lavorato dal pieno a controllo numerico. E per scrivere, beh, per scrivere devo semplicemente stapparla, come fareste con qualsiasi penna. Posso anche bloccare il tappo in questa posizione e continuare a scrivere tutto quello che devo. All'interno trovate una cartuccia della Smith P900M, ma la penna è anche compatibile con le cartucce Right in the Rain pressurizzate che scrivono in tutte le situazioni. Eccola qui, questa la trovate in dotazione. Se vi dovesse servire quelle Right in the Rain che scrivono in ogni scenario, beh, date un'occhiata su Backpack.it e le trovate facilmente. La penna arriva in due colorazioni, nera oppure silver, color metallo, la lunghezza totale è di 15 centimetri e mezzo, una bella penna, pesa soli 40 grammi e realizzata, come dicevamo, in alluminio da pieno. Se sei interessato alle penne tattiche, dai un'occhiata a tutta la collezione disponibile su Backpack.it. Ora però iscriviti al canale e schiaccia la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che è pronto un nuovo video. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social, non dimenticare di lasciare un bel like.